Luz dell'Alba Rubio Allora, era difficile, l'ideale, la sorpresa era poter fare un duetto ma obiettivamente in termini lirici, tecnici, lirici, tecnici, non è molto semplice Allora, visto che Luz è qui ed è disponibile, anche lei per rimanere in tema bucciniano farà un pezzo, poi faremo i brindisi e i saluti voi ve lo fate già i brindisi, non aspettate, bravi, non sarei di fare un altro Luzia, a te la voce, non più la parola Grazie Maurizio, grazie, buonasera, un grande piacere stare qua voglio dire che nel 2006 sono stata la diva che abbiamo aperto il mercato italiano in Cina quindi Cina per noi, per l'Italia, significa moltissimo siamo arrivati lì con l'opera La Fenice, la Traviata tutta l'esposizione della Maria Callas e ci ha ricevuto Beijing insieme al Presidente in questo momento Ciampi dal 2006 tutto il Made in Italy ha fatto presenza in Beijing quindi ho vissuto sempre dell'arte, sono felice cantando è un grande piacere per me condividere con voi un po' di questa musica fantastica del Puccini Tosca è il che Il mio amore, il mio amore, non mi feci mai mali ad animo vivo. Il mio amore, il mio amore, non mi feci mai mali ad animo vivo. Il mio amore, il mio amore, non mi feci mai mali ad animo vivo. Il mio amore, il mio amore, non mi feci mai mali ad animo vivo. Il mio amore, il mio amore, non mi feci mai mali ad animo vivo. Il mio amore, non mi feci mai mali ad animo vivo. Il mio amore, il mio amore, non mi feci mai mali ad animo vivo. Il mio amore, il mio amore. Il mio amore. Il mio amore. Il mio amore. Il mio amore.